Un sabato Open Day per illustrare i progressi della medicina nella cura di una malattia ancora poco conosciuta e spesso sottovalutata, la psoriasi. Il policlinico Umberto I ha aderito alla campagna informativa itinerante Psoriasi, informarsi e curarsi, che quest'anno coinvolge 10 città dislocate su tutto il territorio nazionale. Lo scopo è quello di sensibilizzare i pazienti e le loro famiglie sull'importanza di una diagnosi precoce e di una terapia corretta per il trattamento di una patologia che colpisce oltre un milione e mezzo di persone. La giornata di prevenzione per quel che concerne i pazienti affetti dalla psoriasi, che sicuramente è una patologia molto più grave di quel che si creda, perché non coinvolge solo l'organo acute, come spesso molti pazienti ma anche colleghi sono abituati a credere, ma in realtà è molto più complessa perché è una patologia che comporta numerose comorbidità. Le comorbidità interessano organi quale apparato cardiovascolare, quale sindrome metabolica, anche nelle forme più gravi possono interessare articolazioni, reni, fegato. Insomma il paziente affetto da psoriasi è un paziente che deve essere visitato dal dermatologo ma ovviamente deve entrare a far parte di un percorso, di un team multidisciplinare dove devono essere controllate appunto tutte queste comorbidità, tutti questi aspetti che vanno a aggravare anche la patologia stessa. Tanto è vero che la psoriasi viene definita anche non solo come una genodermatosi che interessa solamente la cute ma ha prevalente interessamento cutaneo. Il nostro dovere pertanto nell'ambito di questa prevenzione non curare solamente l'aspetto come ho già detto cutaneo che per il paziente appare essere la componente più importante ma appunto vedere il paziente in un senso più completo, diciamo una visione un attimino più olistica che può determinare non solo un miglioramento della qualità della vita che è strettamente legato più al fattore cutaneo ma anche una prevenzione per quelle che sono appunto tutte le complicanze che la malattia stessa può comportare. Fondamentalmente la campagna di prevenzione ha questo scopo, uno scopo informativo che è quello di far comprendere al paziente che la psoriasi è una patologia molto più complessa di quello che si può immaginare che non si ferma solamente al fattore esteriore.